Con una lettera pastorale indirizzata ai fedeli, i parroci della forania Castellabate Cilento hanno voluto offrire un momento condiviso di riflessione e di speranza per vivere in pienezza il periodo pasquale. I presbiteri coordinati da Don Roberto Guida, responsabile della foraria, hanno voluto così testimoniare la loro unità e vicinanza per una chiesa che ha fatto di questa lunga quaresima pandemica l'occasione per rigenerarsi anche nelle nostre comunità, riscoprendo strumenti nuovi e ricchezza spirituale troppo spesso tenute sotto il moggio. I sacerdoti tutti richiamano l'immagine della speranza in questo periodo così difficile. Come le donne nel mattino di Pasqua, siamo anche noi appesantiti dalla resegnazione che attraversa silenziosamente questo tempo pandemico, immersi in un buio diffuso che si sta rubando la gioia della speranza. Ma il rimedio è proprio la Pasqua di Gesù. La Pasqua cancelli le nostre paure e ci faccia vedere la vita dalla prospettiva del terzo giorno. Non abbiate paura, è risorto, non è qui. È il grido sommesso ma ricolmo di gioia che sussurriamo a tutti voi fedeli nelle nostre comunità parrocchiali e anche a chi si ritiene lontano dalla fede, ma sempre presente nel nostro cuore di pastori. La lettera pastorale si conclude con un augurio. Tutti insieme diamoci la mano per testimoniare a tutti l'incontro con il risorto. Impariamo da San Giuseppe a custodire i segni incredibili di un Dio che ci sorprende sempre, venendoci incontro. Maria ci incoraggia a dire il nostro semplice eccomi. Siamo disponibili ad affidarti le nostre vite. Allora buona Pasqua, non da comodi sedentari ma da testimoni entusiasti della speranza che nasce dalla risurrezione di Gesù. Dio ci benedica tutti. Auguri.